Ciao a tutti, sono sua Rosana Favero, sono arrivata qui a Cuore Amico e sono qui con Sor Giussi, la nostra superiore generale e siamo venute qui perché Cuore Amico ci ha destinato il premio e siamo contenti di essere qui, soprattutto è nostro desiderio dirvi il nostro grazie. Ecco, la nostra missione opera nelle Filippine e nel Myanmar e sono due paesi che in questo momento hanno veramente necessità di aiuto. Il Myanmar, come sapete, è per la situazione della guerra che stanno vivendo già da quasi due anni ormai e le Filippine sono state molto colpite dagli effetti della pandemia, soprattutto per i pescatori, per gli agricoltori che hanno dovuto sospendere i loro lavori a causa delle restrizioni e quindi adesso si sta cercando di riprendere la vita, di riprendere le attività, ma mancano i fondi per poter aiutare gli agricoltori a riprendere il lavoro. Anche molti pescatori hanno perso tutto per poter sopravvivere alla pandemia hanno dovuto vendere anche le piccole imbarcazioni, le reti, quindi sicuramente con l'aiuto di Cuore Amico riceveranno nuove possibilità di riprendere a vivere come è loro desiderio. Sono qui per dirvi grazie a nome loro e grazie anche a tutti i benefattori di Cuore Amico, io sto parlando solo della realtà del Myanmar e delle Filippine, ma Cuore Amico è veramente, arriva veramente in ogni parte del mondo e porta un cuore nuovo. È un amico che porta un cuore nuovo a tante persone, quindi grazie per tutto questo. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396